Alcuni di voi mi hanno mandato questo video di Tyler Marion che è un giudice e vicepresidente dove parla del confronto Bruno Santos e Andrea Presti all'Europa Pro di una settimana fa o due settimane fa se non sbaglio che ha vinto chiaramente Bruno Santos e dà un po' di spiegazioni chiaramente non c'è stato un furto come ben sappiamo lui e i giudici hanno dato sei pose a Bruno Santos e due a Presti la critica principale che fa a Presti è la sproporzione tra la parte alta e la parte bassa e poi dice che Presti era più definito al pre-judging e poi è un po' peggiorato nella finale in più nella finale è anche diventato più flat cioè più piatto ha perso la pienezza nei muscoli poi non andrò ad analizzare posa per posa ha dato il front double bicep e il front lat spread a Bruno Santos che comunque ha detto che è migliorato al contrario di Presti da pre-judging alla finale nel senso che è diventato un po' più definito nelle finali quindi queste prime due pose le ha date a Bruno Santos invece ha dato a Presti il side chest che io credo sia la sua miglior posa in assoluto perché qui le gambe aumentano di spesso e c'è anche più definizione di Bruno Santos sia nelle gambe che in generale e poi ha dato a Presti anche il back double bicep dicendo che comunque c'era una sproporzione tra la parte alta e la parte bassa e nella parte bassa della schiena nella lower back c'era un po' di vuoto che invece Bruno Santos non aveva comunque il back double bicep è prodotto a Presti e comunque ha specificato che queste foto sono delle pre-judging quindi non sono delle finali però il video di analisi l'ha fatto con queste foto quindi scrivetemi nei commenti che Bruno Santos è una merda non è per niente definito cioè l'ha detto anche Tyler Magno queste sono foto del pre-judging non delle finali dove Bruno Santos è migliorato poi passando al back lap spread questa posa l'ha data a Bruno Santos chiaramente se ne ha date 6 a Bruno Santos e 2 a Presti quelle 2 di Presti che abbiamo già visto va da sé che tutte queste altre pose le darà a Bruno Santos ovviamente comunque ha dato il back lap spread a Bruno Santos perché dice che Presti non si allarga abbastanza contrae un po' troppo la parte alta del trapezio ed è un po' troppo piatto cosa che invece Bruno Santos non è comunque adesso non voglio andare ad analizzare tutte le pose e tutto quello che ha detto perché fondamentalmente l'ho detto all'inizio qual è il punto cruciale di Tyler Magno ha detto che erano tutti e tre molto vicini al pre-judging per un motivo o per un altro Presti era molto definito insieme con Louis Breed che alla fine è arrivato terzo e poi nelle finali c'è stato un po' un cambio nel senso che Bruno Santos ci ha migliorato la definizione Presti l'ha leggermente persa e poi si è anche appiattito cioè i muscoli hanno perso un po' di quel pop come lo chiama lui poi ovviamente scrivetemi che sono una testa di cazzo che non capisco un cazzo sto riportando le parole di un'altra persona quindi chi non capisce ciò può anche prendere tutto e buttarsi dal balcone perché probabilmente non è abbastanza intelligente per capire che sto riportando le parole di un'altra persona oppure se proprio non vuole concedersi questa grazia di eliminarsi dalla terra chiami almeno la pulizia dei sentimenti poi va a fare l'absentance e le mosmasquere ma non ho voglia di ripetermi perché l'ha già detto quali erano i problemi di Presti il motivo per cui Bruno Santos ha vinto comunque non c'è stato un furto come penso fosse ovvio per i più dotati di cervello ma non per quelli meno dotati di cervello io avevo dato quattro pose a testa continuo a pensare che se avesse vinto Presti non c'erebbe stato assolutamente niente da dire così non è stato e il bodybuilding va così anzi è ottimo che adesso i giudici parlino dopo le gare spieghino il perché non lo fanno tutte le gare perché Tyler May non fa questi siparietti quando è lui presente alle gare quando non c'è non parla però spesso fa questi video quindi vuol dire che spesso lui è alle gare quindi siamo contenti che ci siano questi video di commento dopo le gare da un anno a questa parte più o meno perché mi sembra che sia da un annetto che Tyler May sta facendo questi video buona buona